A presto! E la pioggia che fa? Intanto l'incenzo spandeva il suo odore tutto quanto intorno Io e il professore abbiamo avuto un rapporto Io ho sentito dentro di me una tale forza Una tale potenza Una potenza Così io per la prima volta mi sono sentita per la prima volta a me stessa, capisci? Tu questa potenza a me mica me ne avrei fatta mai sentire, Cristiano, scusi No Ma che ti ha baciato? No, l'ha scopato No Però non si fa così Però non è giusto questo Ma che ti ha messo in testa? Ma che significa che ci siamo lasciati? Che significa? Significa questo? No No Il professore ha detto che io dormo con lui solo per 33 giorni Ma quando l'incenzo è finito E la fiaccola si è spenta Io dormo da te Io dormo da te Io dormo da te Io dormo da te Io dormo da te